Si è parlato di una sintesi di varie esperienze legate al gemellaggio col Giappone, che cosa si intende? Allora, noi oggi abbiamo presentato questo nostro progetto di rimettere in piedi un'associazione Amici di Shinomaki. Era un'associazione che in realtà in passato già esisteva e che ha svolto un ruolo molto importante nei rapporti con il Giappone. Perché questa iniziativa? Quest'anno è un anno molto particolare per la storia di Civita Vecchia e soprattutto per la storia del Giappone, perché si celebra il quattrocentenario dello sbarco di assicurazione Naga a Civita Vecchia, per cui a ottobre ci saranno delle manifestazioni, delle cerimonie molto importanti. Per questo è arrivato il momento, noi crediamo, di dare un segno tangibile dell'interesse anche della città nei confronti di questo gemellaggio. Perché a molti sicuramente sfuggono i dettagli del perché ci sia una statua di un giapponese in fondo a Corso Marconi o perché ci sia una chiesa affrescata con immagini di giapponesi, come i Santi Martiri giapponesi. In realtà tutto questo ha un fondamento storico molto profondo e molto lontano nel tempo. Si parla appunto di quattrocento anni. E siccome già a Dicino Maghi esiste da tantissimi anni un'associazione Amici di Civita Vecchia, noi abbiamo pensato di farne una in qualche modo che svolga le stesse funzioni. Come si svolgeranno le varie iniziative? State già pensando a questo oppure cercate anche volontari per poi attivare tutta una serie di programmazione? Allora, dunque, noi naturalmente un po' di iniziative in mente ce le abbiamo tutti già e questo è inevitabile. Però la cosa importante è che sicuramente questo è fondamentale da dire, che noi vogliamo in qualche modo che questa associazione rappresenti tutti. Per questo facciamo un appello pubblico e chiediamo a tutti quelli che in qualche modo sono interessati a partecipare all'attività che in qualche modo si svolgeranno nel gemellaggio con il Giappone, che sono interessati, che sono appassionati o che sono anche semplicemente curiosi, di contattarci per partecipare e per essere proprio tra i soci fondatori di questa associazione. Per quello possiamo dare anche intanto un indirizzo di posta elettronica, cioè intanto un numero di telefono che è 329-63-11-332, che poi sarebbe il mio, e poi un indirizzo di posta elettronica che è gemellaggioGiappone-libero.it.